Se stai avendo difficoltà proprio nel giocare a FIFA 25 che si blocca, si frizza, ti esce un schermo nero oppure si crash, esce l'errore DirectX, è possibile ripristinare e reinstallare da capo tutti i driver per la tua scheda grafica oppure provare a usare dei vecchi driver Nvidia oppure AMD. Ma prima di fare questo andiamo un attimo sul nostro pannello di controllo di Nvidia per quelli che usano una scheda grafica Nvidia, che ti ho lasciato in descrizione il pannello di controllo. Tasto destro sopra, pannello di controllo Nvidia. Vai direttamente su gestisci le impostazioni 3D e vai su impostazioni programma, vai direttamente nella cartella di FIFA 25 e aggiungi così il gioco. Quindi in questo caso vai direttamente su questo PC, desktop e poi vai a prendere l'applicazione di fc25.exe però la devi prendere nella cartella di FIFA. Questo è solamente un collegamento sul desktop. E faccio apri ed eccolo qua. Ora, per risolvere il problema riguardo che si frizza, si blocca, è possibile risolvere il problema sulla tecnologia monitor. Per quelli che hanno questa compatibilità sul monitor del G-Sync, ti consiglio di impostare la compatibilità G-Sync. Velocità di aggiornamento preferita, la più elevata disponibile. Sincronizzazione verticale, ovviamente se vuoi giocare a schermo intero e blocchi anche G-FPS, ti consiglio di attivare questa sincronizzazione verticale. Così facendo non uscirai più dal gioco, non ti uscirà l'errore del DirectX e non si bloccherà neanche il gioco. Ottimizzazione con triad, metti automatico. Modalità bassa latenza, metti Ultra. E poi abbiamo Buffering triplo, metti disattivato. E basta. Invece per il dimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza, se vuoi più nitido il gioco, basta che attivi qua, aumenti la nitidezza, ma avrai anche problemi di lag. C'è anche la probabilità di crashare oppure si blocca il gioco, per quelli che hanno una scheda grafica di una fascia tipo bassa e media. Quindi metto disattivato qua e faccio ok. E basta. E chiudo qua. Applico così le modifiche. Applicate tutte le modifiche. Prima di avviare il gioco, assicurati di eliminare file temporanei, file che ti possono così rallentare il gioco, oppure in descrizione ti ho lasciato così un programmino per Windows che si chiama PC Manager, che busta così le prestazioni del tuo computer, elimina anche i file temporanei e potenzia l'uso della memoria. E chiudiamo qua. Ora, passiamo direttamente ai nostri driver. Abbiamo i driver più recenti e abbiamo anche i driver vecchi. Quindi, scegli così la tua scheda grafica. Fai trova. Scendi fino a giù. Puoi provare a scaricare e installare i vecchi driver di Nvidia. Quindi fare tipo un test, provare questi driver vecchi e provare ad avviare FIFA e giocare e vedere se riscontri questi problemi oppure no. Scarichi e installi i vecchi driver oppure gli ultimi driver del 17 di settembre. Se no, Nvidia App, l'applicazione è beta, la scarichi, la installi. Sono 700 MB. Ed eccola qua. Nvidia App. Vai su driver. Cerchi così l'aggiornamento da fare. Scarichi e installi gli ultimi driver rilasciati. Invece, per quelli che hanno AMD, AMD Support Driver. Scrivi direttamente così ti porterà su driver and support per processori e grafica. Cerchi così la tua scheda grafica e il tuo processore. Lo cerchi qua. Lo scarichi e installi. Se no, puoi scaricare e installare un software che è come tipo Nvidia App. Il programma che si chiama AMD Adrenaline Download. AMD Adrenaline. Ed eccolo. Cos'è l'ho questa. Adrenaline Edition. Basta che scrivi AMD Software Adrenaline Edition. Scarichi e installi così il software. Posso solo farti vedere questa interfaccia. Non posso installarlo perché non è compatibile con il mio computer. Quindi non posso installare nulla di questo programma qua. Però qua tu puoi aggiornare e configurare la grafica ai tuoi giochi. Se no dovesse bastare, aggiorna anche i driver. Quindi aggiorna così, fai gli aggiornamenti su Windows 10 e Windows 11. Verifica così la disponibilità aggiornamenti per non avere più problemi di freeze, crash, errori, directx e molto altro ancora. E c'è anche una playlist in alto a destra su come risolvere i problemi su FIFA 25. Quindi se riscontri altri problemi, fammelo sapere sotto al video. Cercherò di realizzare altre guide al riguardo. E quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.